Amici sportivi ben ritrovati, squadre già schierate in campo, Interreggio contro Salernitana allo stadio Granillo di Reggio Calabria, tutto è pronto per l'ottava giornata del campionato di seconda divisione Girone B, dirige l'incontro il signor Bellotti di Verona, Interreggio che in settimana ha cambiato la guida tecnica al posto dell'esonerato Di Maria, è arrivato Antonio Venuto, un passato con il Milazzo in cui ha fatto davvero bene, Carlo Perroni invece che è subentrato da quattro partite Orsono all'esonerato Giuseppe Galderisi, è reduce da ben quattro risultati utili di fila, tre vittorie di fila, le ultime tre ed un pareggio alla sua prima sulla panchina della Salernitana, intanto c'è stato il fischio d'inizio, subito le formazioni, Interreggio che si schiera con una sorta di 4-3-3 ma seguiamo subito l'azione con il numero 11 Aliperta che crossa al centro, fa buona guardia Molinari che prova a servire Guazzo, lo stop non è dei migliori, ha ragione l'Interreggio, il centrocampo dell'Interreggio, il numero 9 Figlio Meni, prova ad andare via, ha servito Zampaglione, vince un rimpallo, poi non il secondo, Chiri Eletti si rifugia in calcio d'angolo, subito le formazioni, Mengoni tra i pali, Cutrupi, Ungaro in Pagliazzo e Ansillotti a comporre il pacchetto arretrato, Vicari, Gioia e Pensalfini in Mediana, Figlio Meni, Zampaglione e Aliperta per quanto riguarda l'Interreggio, risponde la Salernitana con gli annarilli tra i pali, Luciani, Rinaldi, Molinari e Chiri Eletti, Montervino per Petuini, Mancini, Vettraeno, Guazzo e Gustavo. Attenzione, calcio d'angolo battuto in questo momento, Guazzo libera, ancora però l'Interreggio con Cutrupi, la palla finisce in fallo laterale, rimessa con le mani da parte di Salvatore Cutrupi, uno dei tre fratelli che giocano nella formazione, nella seconda squadra cittadina di Reggio Calabria. Salvatore Cutrupi ha vinto il ballottaggio proprio con Damiano Cutrupi, l'altro Cutrupi è il secondo portiere. Salernitana, dicevamo, reduce ben tre vittorie di fila, Carlo Perrone vuole il poker in terra Calabria, la Calabria del resto ha portato bene perché 15 giorni or sono, proprio la formazione di Perrone è riuscita ad espugnare il campo della Vigor Lamezia, conquistando il primo successo in trasferta della stagione grazie a un euro goal di Gustavo. Ricordiamo Salernitana, orfana di Ginestra in settimana, bello intanto il numero di Gustavo che aveva cercato la profondità per Guazzo, ha fatto buona guardia alla difesa bianco celeste, Interreggio che deve fare a meno attenzione qui a Narilli, rischia quella cosa, Zampaglione in scivolata, buona per il numero uno Granata che la palla è finita direttamente oltre il perimetro. Ci sarà una rimessa dal fondo già battuta in questo momento da parte di Jan Narilli. Molinari ha cercato la profondità in posizione di offside, è stato beccato Guazzo, si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Interreggio, dicevamo Interreggio che deve fare a meno, partono dalla panchina, l'ex Ivan Franceschini e l'attaccante Coris, sicuramente una delle bocche da fuoco più pericolose della formazione calabrese, formazione calabrese che è alla prima con venuto in panchina. Attenzione a Figliomeni, fatto buona guardia alla Salernitana, brava anche nel possesso palla, nel giro palla per Petuini, cambia gioco dalla parte opposta per Luciani di testa, Montervino il capitano potrebbe restituire il pallone, lo fa in questo momento a Luciani, ping pong tra i due. Vettraino che fa il suo esordio dal primo minuto, subentrato all'infortunato Ricci, attenzione però sulla tre quarti, a Liperta, largo per Ansillotti, attenzione, il numero dieci tenta la sforbiciata, Pensalfini, Pensalfini dovrebbe agire alle spalle del tridente sporco, composto da Zampaglione, Figliomeni e a Liperta. Mentre sulla sinistra c'è l'infant prodigio Giuseppe Gioia, classe 94, ragazzo di cui si dice un gran bene, centrocampista. Una sorta di 4-2-3-1, soprattutto in fase di non possesso. L'atteggiamento tattico della formazione calabrese, formazione calabrese che in questo momento beneficia di una rimessa dal fondo. Riccardo Mengoni, il numero uno ex Catanzaro, classe 86, è un 4-2-3-1, piuttosto che un 4-3-3. Viccari e Gioia sono i centromediani metodisti con Zampaglione, Pensalfini e a Liperta, centrocampisti offensivi e Figliomeni. Centro avanti, unica punta. Atteggiamento tattico che i Salernitani, Zampaglione, Figliomeni e a Liperta, sono i centrocampisti offensivi. Dicevamo, atteggiamento tattico che i Salernitani ricorderanno molto bene con Giuseppe Calderisi. Atteggiamento tattico che non ha portato un gran che bene alla Salernitana. Un solo punto in tre partite è costato la panchina a Nanu Calderisi e le invettive di Claudio Lotito che soprattutto negli ultimi tempi ha confermato di aver fatto formale richiesta di chiamare in causa proprio Galderisi e il suo vice cavalletto per a detta del legale Gian Michele Gentile. Atteggiamenti molto gravi che sono in un certo senso stati confermati anche da Carlo Perrone è proprio alla vigilia, una vigilia atipica questa di Reggio Calabria perché la Salernitana ha anticipato di un giorno la partenza, ha fatto scalo in terra Calabra, ha riabbracciato l'ex direttore generale Danilo Pagni, pace fatta con Carlo Perrone, un abbraccio sulla via di Damasco. Passatemi il termine. Rinaldi si è ristabilito, era stato costretto al forfella la settimana scorsa per un mal di schiena improvviso. cambia gioco dalla parte opposta Molinari, è stato sicuramente il migliore in campo la settimana scorsa nel 3-1 rifilato al Borgo Abbuggiano, una delle reti, quella del 2-1 porta proprio la sua firma. Montervino può servire largo a destra, Vettraino ha fatto bene da quando è stato chiamato in causa l'ex Siena. Vettraino classe 93. Tanto le squadre si studiano molto, Molinari, difesa molto alta in questo momento, Rinaldi. Sono passati 7 minuti di gioco, 0-0 tra Interreggio e Salernitana. Cerca la profondità, Chirieletti non riesce a tenerla nel perimetro. Si riprenderà con una rimessa laterale in favore dell'Interreggio con le mani direttamente Salvatore Cutrupi. Saverio Cutrupi, scusate. Ungaro. Gioia. Subisce fallo Vicari. Calcia direttamente in porta Mancini. Rischiando qualcosa qui. Intanto si fanno sentire gli oltre 250, circa 300 tifosi della Salernitana presenti nello spicchio della curva nord dello stadio Granillo, stadio che rievoca fasti di un tempo e di categorie di ben altro spessore di match storici tra Regina e Salernitana. L'ultimo non ha portato bene ai colori Granata. E tantomeno alla panchina di Marco Cari. La Salernitana perse 3-1 al Granillo. Era l'ultimo campionato di Serie B della formazione Granata. Marco Cari fu esonerato. Era arrivato da poco Nicola Salerno, direttore sportivo, che stava per far fuori Marco Cari già nella trasferta di Lecce, poi salvato in Estremis. Il 3-1 al Reggio Calabria, accostò la panchina a Cari. Arrivò Gianluca Grassadonia. Guazzo. Tiene bene un po' un pallone. Perpetuini, Montervino. C'è traffico a centrocampo, guadagna il possesso palla all'Interreggio. La morsa di Perpetuini. Vicari. Gioia. Verticalizzazione per Aliperta. Costretto a ripiegare ancora su Gioia. Cerca il taglio Zampaglione. Non gli riesce. Ha capito tutto la difesa della Salernitana. Può ripartire la formazione Granata con il capitano Francesco Montervino. Tiene un po' troppo palla, poi scarica per Perpetuini. Cambia gioco dalla parte di Vettraino. La sovrapposizione di Luciani. Preferisce ripartire da Molinari, la Salernitana. Guadagna qualche metro. Il velo di Vettraino che guadagna un po' ballone. Il tiro di Vettraino sporcato da Anzilotti. Facile l'intervento di Riccardo Mengoni, classe 86, ex Catanzaro. Riccardo Mengoni. L'esperienza al servizio della squadra non è servita fino a questo momento all'Interreggio. Interreggio che è stata avversaria della Salerno Calcio lo scorso anno nei playoff scudetto proprio all'Arecchi. Attenzione, il cambio di gioco da parte di Molinari sarà un leitmotiv della stagione. Molinari ha un destro abbastanza preciso, altrettanto potente. E spesso toccherà ai centrali difensivi provare a saltare la mediana. Come in questo caso ha fatto Buonaguardia, però anzi Lotti si riparte da Impagliazzo. Il rimpallo stava favorendo Montervino, però c'è un braccio Galeotto. Calcio di punizione in favore dell'Interreggio. Dieci minuti di gioco nel corso del primo tempo 0-0 tra Salernitana e Interreggio allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Ricordiamo Interreggio che in estate ha rischiato addirittura l'iscrizione perché il suo impianto sportivo non era norma per quelle che sono le regolamentazioni del campionato di seconda divisione. Quindi si è chiesto la disponibilità del Granillo dopo un braccio di ferro con la stessa regina. E' arrivato l'ok e l'Interreggio ha formalizzato la sua iscrizione. Rinaldi, Mancini, attenzione Rinaldi rischia qualcosa su Pensalfini. In seconda battuta l'ex Juve Stabbia lancio millimetrico per Chiri Eletti. Guadagna il primo calcio d'angolo per la Salernitana. Uno ne ha battuto già l'Interreggio. Dalla bandierina va Mancini. Ex Verona. Manuel Mancini. Sicuramente valore aggiunto di questa squadra. Tiro a girare il destro. Mingoni cade a terra ma aveva arpionato in anticipo il pallone sulla proiezione offensiva di Luciani. La sua rimessa è facile preda di Chiri Eletti che era andato per vie centrali per coprire la avanzata di Luciani. Per Petuini su di lui Pensalfini rischia qui Perpetuini. Ancora Pensalfini può ripartire l'Interreggio a Liperta. Il cross al centro. Il colpo di testa di Chiri Eletti. Bravo nella circostanza. La finta di Rinaldi con calma può far ripartire l'azione della Salernitana. Montervino, Vettraino salta un uomo. Viene messo giù. Calcio di punizione in favore dei Granata. Vettraino un buon cambio di passo. Lo ha subito dimostrato. Già battuto il calcio di punizione Mancini il numero 10 per vie centrali. Gustavo guadagna qualche metro. Serve Guazzo in posizione regolare. Guazzo non vince il rimpallo. Anzi Lotti buona la sua diagonale. Cambia gioco per Figliomeni. Figliomeni supera in questo momento la metà campo. Si fa vedere in panchina Carlo Perrone. Chiede a Mancini di stringere. Si riparte da Vicari. Ancora Figliomeni. Figliomeni sulla corsia di destra. Su di lui c'è Chirieletti. Prova a saltarlo. Non passa. Chirieletti bravo anche in questa circostanza. Montervino in mezzo al campo. Mancini su di lui. Penzalfini. Guazzo di prima. Ha capito tutto però. Gioia. Figliomeni. Vicari. Cambia gioco per l'arrivo di Aliperta. Molinari ha tentato l'anticipo. Una gamba troppo alta. Calcio di punizione in favore del Interreggio. La posizione centrale ma almeno 35 metri di distanza dalla porta difesa da Iannarilli che chiama comunque almeno quattro uomini in difesa. In barriera scusate. Tocca a Perpetuini comandare la barriera. Sulla palla invece si avventano Aliperta. Dovrebbe toccare al numero 11. Domenico Aliperta classe 90. Poi pare che voglia lasciare l'incombenza a Zampaglione. Domenico Zampaglione. Vibonesi a Versa Norbanna. Una caterva di golle nella sua storia. Proverà a calciare Zampaglione. Chiede il rispetto della distanza. L'interreggio Zampaglione il suo destro. Ribattuto dalla barriera. Ancora Aliperta. Il muro della retroguardia Granata. Vettraino. Bravo nella circostanza. In interdizione Diego Vettraino. Rimessa laterale. Affidata alle mani di Anzilotti. Prova a servire. Pensalfini guadagna il fondo. Il cross al centro. Troppo largo. Costretto a recuperare. Su Vicari. Potrebbe ripartire la Salernitana con Mancini. Subisce fallo. Viene messo giù. Fallo tattico. Rischia qualcosa. Qui Vicari. L'esperienza di Salvatore Vicari. Ricordiamo. Un passato glorioso in Serie A. Proprio con la regina. Il prato del granillo. E come di casa sua. Poi Avellino. Nocerina. Messina. Giocatore sicuramente di grande esperienza. E questo fallo lo dimostra. Fallo tattico. Ha evitato la ripartenza della Salernitana. Per Petuini. Molinari. Può guadagnare qualche metro. Il gigante buono. Supera in questo momento la metà campo. Vettraino. Gli restituisce il pallone. Ancora Molinari. Cambia gioco. In posizione regolare. Gustavo. Per un attimo. Ci avesse messo la punta del piede. Magari riusciva a correggere l'assist di Molinari. Buono il taglio di Gustavo. Comunque 4-3-3 per la Salernitana. 4-2-3-1 per l'Interreggio. Con gli esterni della formazione calabrese costretti a un lavoro enorme in fase di copertura. Zampaglione. Figliomeni. Figliomeni spesso agisce largo sulla destra. Pensalfini. Passano tutti i palloni dalla parte sua. Cutrupi. Il cross al centro. La ribattuta di Chiri Eletti. Rimessa laterale. Ancora Saverio Cutrupi con le mani. Ristituisce il pallone. Arriva prima però Mancini. Ripiegamento difensivo. Uomo ovunque. Manuel Mancini. Non lo scopriamo oggi. Lo aveva detto Carlo Perrone. Attenzione. Bella la sponda di Guazzo per Gustavo. Che a campo. A metri. A una prateria. Potrebbe servire. Guazzo. Lo fa in questo momento di prima intenzione. Troppo frettolosa la conclusione di Guazzo. Avrebbe potuto favorire l'inserimento di Vettraeno. Ha tentato la conclusione di prima intenzione. Il golden goal praticamente non gli è riuscita. Si riparte con l'interreggio Vicari. In mezzo al campo ancora Vicari. E lui il metodista del centrocampo dell'interreggio. Mentre Penzalfini è il vertice alto del centrocampo disegnato da Antonio Venuto. Bene con il Milazzo. Antonio Venuto. Che ha sostituito Di Maria. Sulla panchina dell'interreggio. Montervino. Il cross al centro per Guazzo. In una posizione di offside. Calcio di punizione. Che viene battuto in questo momento da Mingoni. Servito Vicari. Penzalfini chiama palla. La riceve in questo momento. Cerca la verticalizzazione per Zampaglione. L'anticipo di Rinaldi. Batti e ribatti. Balla però che arriva Zampaglione. Largo per Figliomeni. A metri e spazio Figliomeni. Il suo sinistro a girare. Ha servito però. Penzalfini. Il tiro. Anzi era Zampaglione. Una conclusione a metà tra il tiro e il cross. Finita abbondantemente. Oltre il perimetro. Nessun rischio per Anthony Iannarilli. Però in questo caso. La difesa della Salernitana. È stata tagliata in due. Dall'intuizione. Di Figliomeni. Già battuto. Il calcio dal fondo. Cotrupi. Vicari. Anzi Gioia. Pensalfini. Zampaglione. Ancora Pensalfini. Ha cercato con il sinistro di servire Aliperta. Troppo lungo. Buona l'intenzione comunque. Del resto. Pensalfini. È un altro giocatore. Di grande esperienza. Lo ricordiamo. Sassuolo. Verona. Taranto. Vettraino. Attenzione. Vettraino qui perde un pallone pericoloso. Pensalfini. Bravo nell'anticipo. Perpetuini che può cambiare immediatamente il gioco per Gustavo. Ci può arrivare il brasiliano. Ce la fa. Su di lui c'è Saverio Cutrupi. Tenta l'uno contro uno. Gustavo. Il tunnel. Messo giù. Calcio di punizione. Ha fatto ostruzione. Saverio Cutrupi era stato letteralmente imbucato da Gustavo. Graziato nella circostanza. Ha rischiato il cartellino giallo. Saverio Cutrupi. Era andato via nell'uno contro uno. Gustavo. Gustavo Vagenin. Autore del gol che ha consentito alla Salernitana di espugnare il campo della Vigor. La Mezzia. Quindici giorni or sono. Conquistando i primi tre punti esterni della stagione. Calcio di punizione in favore della Salernitana quando siamo al diciannovesimo del primo trempo. 0 a 0 tra Interregio e Salernitana. Il destro di Mancini. Praticamente un calcio d'angolo corto. C'è traffico in area di rigore. Mancini tiro a girare direttamente in porta. Aveva tentato di inserirsi sulla traiettoria. Vettraino. L'ho anticipato la difesa dell'Interregio. Secondo tiro dalla bandierina per i Granata. Ancora una volta. Incombenza. Alla destro di Manuel Mancini. Calcio in questo momento. Il colpo di testa di Guazzo. alto di poco all'incrocio dei pali. Anticipato sul primo palo il suo diretto avversario. Buono lo schema. Guazzo ha fintato di andare per via centrale. Poi anticipato sul primo palo. Ha tentato la spizzata. Buona l'intenzione. Da correggere leggermente. Soltanto leggermente. La traiettoria. Mancini guadagna un po' un pallone. Però poi non è preciso nel disimpegno. Prova ad approfittarne Gustavo. In un rimpallo. Che poteva trasformarsi in un involontaria. Situazione favorevole per le sorti Granata. Rimessa laterale con le mani. Cutrupi. Vicari. Gioia. In pagliazzo. Cerca Figliomeni. L'anticipo di Chirieletti. Però la palla arriva a Pensalfini. Pensalfini. Anzi Zampaglione. Cerca Pensalfini. In area di rigore. Geppino Rinaldi. Favorisce l'intervento di Anthony Annarilli. Può ripartire la serenitana con Luciani. Perpetuini. Ancora Luciani. Molinari. Rinaldi. Gustavo. Guazzo di prima. Di testa. Largo sulla sinistra. Per Chirieletti. Si ferma. Ma il difensore della Salernitana. Preferisce andare dalle parti di Mancini. Bravo. Nell'assist Mancini. Di un soffio. Non ci arriva Vettraeno. Buona però l'intenzione. E il piede fatato di Mancini. Che aveva praticamente scavalcato il pacchetto arretrato. Servendo un assist direzioso per Vettraeno. Bravo anche lui nel tagliare la difesa avversaria. Però è partito con un attimo di ritardo. Penzalfini. Stavolta sbaglia il servizio per Figliomeni. La palla finisce oltre il perimetro. Si sta riscaldando già un giocatore dell'Interreggio. Chissà che Venuto non sia costretto ad un cambio. Dovrebbe trattarsi del numero 18. Coris. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Se non altro sul piano fisico. Per quanto riguarda il pacchetto offensivo dell'Interreggio. Coris si sta riscaldando già da qualche minuto. Vedremo se Venuto provvederà a un cambio. Attenzione Penzalfini. Zampaglione. Zampaglione per via centrale. Attenzione. Il tiro di Zampaglione in mezzo a tre giocatori. Domenico Zampaglione. Se lo ricordano bene. Allaversa Normanna. Autentico mattatore. Di quel campionato. Auguriamoci che possa essere soltanto un ricordo. Luciani. Un po' troppa leggerezza. Però riesce a servire Vettraino. Tenta di cambiare gioco. Troppo lungo per la Torre Guazzo. Può ripartire l'Interreggio con Vicari. Su di lui c'è Mancini. Penzalfini. Di prima l'Interreggio. Gioia. Largo. Ancora Gioia. Guarda lo schieramento dei suoi compagni. Zampaglione. Vicari. Gioia. Si gioca in un fazzoletto di terra. Attenzione. Gioia. Sbaglia. Un appoggio. Riguadagna un buon pallone. La Salernitana può ripartire con Montervino. Serve Luciani. A spazio Luciani. Sulla corsia di destra. Poco il movimento senza palla. Attenzione. Però Guazzo ci arriva. Il tiro di Guazzo. Rimpallato. Ancora Guazzo. In qualche modo riesce a deviare in calcio d'angolo. Ungaro. Bella l'azione di Guazzo. In proposizione offensiva. Un caterpillar. Matteo Guazzo. Ha tentato anche nella seconda circostanza di servire in appoggio un giocatore Granata a rimorchio. Terzo tiro dalla bandierina per la Salernitana. Dalla parte opposta va il sinistro di Gustavo. Preferisce alleggerire per Montervino. Ancora Gustavo. È uno schema. Gustavo entra in aria. Salta un giocatore. Il tiro a girare. Di Gustavo. Di un soffio. Gran bel sinistro di Gustavo. Che era entrato in aria. Aveva saltato un giocatore dell'Interreggio. E da circa dieci metri. Anche se da posizione un tantino defilata. Aveva cercato l'angolino alto. Lontano. Della porta difesa da Mengoni. Che fa ripartire in questo momento l'azione. Il colpo di testa di Aliperta. Facile preda di Molinari. Luciani. Vettraino. La pressione di Anzilotti. Molinari. In qualche modo riesce comunque a servire il centrocampo Granata. Salernitana che però soprattutto in mediana non riesce almeno fino a questo momento a mettere palla a terra e provare a esprimere il suo gioco. L'azione si sta sviluppando soprattutto. Attenzione qui perde palla Luciani anticipato da Aliperta. Torna sui suoi passi Luciani. Bravo nella circostanza. E difende il pallone che scivola via oltre il perimetro. Rimessa dal fondo in favore della Salernitana. Continua a riscaldarsi a buon campo Coris. Per il momento però nessun cenno dalla panchina. Perone sempre in piedi. Chiede alla sua squadra di essere più stretta. Più corta. E di provare magari ad allargare le maglie della difesa avversaria. Per Petuini. Si riparte da Molinari. La pressione di Zampaglione per Petuini. Gustavo di prima. Bravo nella circostanza il brasiliano. Chirieletti perde l'attimo però. E' costretto a ripartire da Gustavo. Due uomini su di lui. Subisce fallo Gustavo. Figlio Meni. Gli rifila un pestone. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Salernitana. Quando sono passati 26 minuti di gioco nel corso del primo tempo. 0-0 tra Interregio e Salernitana. Mancini battuto in questo momento il calcio di punizione. Dalle parti di Molinari. Cerca la profondità. Trova invece la testa di Ungaro. Attenzione a Penzalfini. Può ripartire l'Interregio. La sovrapposizione di Figlio Meni. Su di lui c'è Rinaldi. Bravo Rinaldi. D'esperienza, di mestiere, di giustezza. Rinaldi guadagna anche qualche metro. Poi lascia l'incommenza a Montervino. Supera in questo momento la metà campo. Il centrocampista e capitano della Salernitana. Mancini sulla corsia di sinistra. Ha anticipato tutti Saverio Cutrupi. Penzalfini ancora però Montervino. Bravo in fase di interdizione. Il capitano prova a farsi vedere. Perpetuini. Ancora Montervino ha guadagnato qualche metro la Salernitana. Però c'è la pressione di Vicari che costringe Granata a ripartire da Perpetuini. Costretto alla verticalizzazione. Facile, facile. Tra le braccia di Riccardo Mingoni. Aliperta. Anzilotti. Gioia. Su di lui c'è Montervino. Subisce fallo. Si può proseguire per la norma del vantaggio. Vicari. Pensalfini. Largo sulla destra. Buona la manovra in questo caso. Cutrupi. Saverio. Sulla corsia di destra. Il destro a girare. Il colpo di testa di Molinari. Che finora non ne ha sbagliata nessuna. Per quanto riguarda gli interventi aerei. Un gigante di oltre un metro e novanta centimetri d'altezza. Qui commette fallo Matteo Guazzo. Su Impagliazzo. Impagliazzo ricordiamo preferito a Ivan Franceschini. Che parte dalla panchina. Così come Coris. Anche se Coris si sta riscaldando oramai da tempo. Entrambi acciaccati. Venuto a preferito non rischiarle. Almeno dal primo minuto. Attenzione qui Vicari ha rischiato qualcosa su Mancini. Per Perpetuini. Ancora la Salernitana. Per Guazzo. Riesce a girarsi. Preferisce ripartire da Montervino. Montervino sulla tre quarti. Vettraino. Perpetuini. Mancini. Ha un po' di spazio Mancini. Salta Vicari. Il tiro di Mancini. E una deviazione. Stava rischiando il più classico degli autogol. E ci sarà il quarto tiro dalla bandierina. in favore della Salernitana. Da quella parte va sempre Gustavo Vagenin. Il sinistro del brasiliano. Con tanto traffico in area di rigore. Sono salite anche le torri. Rinaldi. Molinari. Lo stesso Luciano. Il tiro a girare. Il colpo di testa di Gioia. Ancora però. Gustavo. Guarda lo schieramento dei compagni. Preferisce ripartire da Montervino. Di prima. Il destro a girare. Attenzione. Il fuorigioco. Almeno. È. Ha alzato la bandierina. Il secondo assistente di. Bellotti. Di Verona. Luciani aveva colpito la traversa. Ma a gioco fermo. Praticamente. Perché. Edoardo Ficarra. Di Palermo. Edoardo Ficarra. Di Palermo. Aveva alzato la bandierina. Intanto. Oltre a. Si è seduto. Coris. Si sta riscaldando. Borghetto. Per l'Interreggio. Mentre per la Salernitana. Si è alzato dalla panchina. Enrico Zampa. Anche se. In questo momento. Non riusciamo a vedere più. L'ex. Centrocampista. Primavera. Capitano. Della primavera della Lazio. Se. Si stia riscaldando. In effetti. Si sta riscaldando. Praticamente. Tutta la panchina. Dell'Interreggio. Ricordiamo. Siamo appena. alla mezz'ora del primo tempo. Seguiamo questo lancio di Mancini. Millimetrico per Guazzo. Tenta il numero Guazzo. La palla resta lì. Entra in area di rigore. Guazzo. Costretto. A ripiegare il tiro a giro. Rimpallato. Dalla difesa. Dell'Interreggio. Attenzione Mancini. Mancini. Fischia però. Il direttore di gara. Probabilmente. Arrabbisato gli estremi. Per un calcio di punizione. In favore della formazione calabrese. Probabilmente un. Fallo di mano. Si. Si sta riscaldando. Enrico Zampa. Mentre per l'Interreggio. Sono ben tre i giocatori. Che. Sono ben tre i giocatori che si stanno riscaldando. Zampa invece. È tornato a sedersi in panchina. Gioia. Figlio Meni. Di prima intenzione per Penzalfini. Aveva tentato di restituirgli il pallone. Una sorta di dai e vai. Ha fatto buona guardia. La Salernitana. Buona la prova fino a questo momento. Di Mancini. Non è una novità. Anche e soprattutto in fase di interdizione. Oltre alle indiscusse doti tecniche dell'ex centrocampista di Verona. Taranto. Gallipoli. E chi più ne ha più ne metta. Attenzione. L'anticipo di Rinaldi. Bravo nella circostanza. Montervino. Guadagna qualche metro. Montervino. Si allunga un po' il pallone. Però ritorna sui suoi passi. Sbaglia però l'appoggio per Vettraeno. Non si intende con l'ex Siena che aveva tentato di andare per vie centrali. Montervino invece lo ha servito nello spazio sulla sua corsia di appartenenza. Ne è venuto fuori un servizio preda soltanto dei raccatapalle. Vito Vicari in pagliazzo alla meno peggio Molinari di testa. Stavolta commette fallo Morris Molinari su Zampaglione. Eccezio fatta per Aliperta. Figliomeni e Zampaglione spesso si invertono. Anche se Figliomeni preferisce sempre partire dalla destra. Almeno queste sono le disposizioni di venuto. Vicari su di lui per Petuini. La pressione della Salernitana Gioia per vie centrale. Attenzione Figliomeni. Ancora una volta molto bravo. Rinaldi ingaggia un duello con Figliomeni. Colpo di testa di Guazzo. Vettraeno aveva tentato. Per un attimo avrebbe potuto davvero fare male. Poi la velocità di Vettraeno. Attenzione però ancora Salernitana. Guazzo di prima per Vettraeno. Buono il controllo di Vettraeno. Può entrare in alia di vigore su di lui. Figliomeni preferisce l'assist. Il colpo di testa di Impagliazzo. Ungaro di testa. Poi Impagliazzo ha perfezionato il disimpegno. Direttamente nei distinti desolatamente vuoti. Montervino la Salernitana tiene in mano il pallino del gioco. Il capitano guarda lo schieramento dei compagni. Preferisce andare dalle parti di Vettraeno. Ancora Montervino per Petuini. Di prima per Vettraeno. Anzi è Luciani. Su di lui Aliperta subisce fallo. Qui ci dovrebbe essere il cartellino giallo. Infatti arriva puntuale il primo giallo della gara. Ai danni di Aliperta che ha commesso un fallo abbastanza evidente. Ai danni di Luciani. Aliperta. Domenico Aliperta è il primo giocatore dei 22 a finire nel taccuino dei cattivi. Quando siamo al 34esimo del primo tempo 0-0 tra Interreggio e Salernitana. Salernitana che sebbene ha sprazzi però mi pare stia facendo vedere qualcosina in più dell'Interreggio. Praticamente inoperoso. Gianna Rilli. Calcio di punizione interessante per la Salernitana. Gustavo e Mancini praticamente gli specialisti in un corner più centrale. Molto più corto. Chissà se non tentino addirittura la conclusione nello specchio della porta. C'è comunque molto traffico. Gustavo ci ha provato. Ribattuto dalla barriera. Mancini. Montervino di prima c'entra in pieno volto. Dovrebbe trattarsi di gioia. Anzi no. Rimane a terra un giocatore dell'Interreggio. Colpito in pieno volto assolutamente involontario. Naturalmente il colpo di Francesco Montervino. Fatto sta che resta a terra. Partita e gioco fermo. Trentacinquesimo del primo tempo. Zero a zero tra Interreggio e Salernitana. Un commento da parte di Raffaele Schiavone. La piacevole partita. La Salernitana la sta affrontando con un ritmo un po' più... Sta cercando di tenere un ritmo un po' più blando. Perché il caldo si avverte. Infatti vanno a... Ecco. A ogni pausa i giocatori della Salernitana vanno a dissetarsi. E quindi hanno preferito gestire meglio la partita. Tenendo un ritmo basso. Però nonostante ciò le occasioni migliori le ha avute la Salernitana. Certo. Si avverte la mancanza di Ginestra là davanti. Guazzo fa di tutto per farcelo... rimbiangere. Ma fino a questo momento tante buone intenzioni. Però chiaramente l'assenza del Cobra si fa sentire. Come si fa sentire anche la colonina di Mercurio del termometro. Perché praticamente questa è una giornata quasi semiestiva. La colonina di Mercurio. Attenzione che Gustavo di testa su Imbeccata di Montervino dimostra che nella spiaggia di Copacabana era bravo anche nel gioco aereo. sebbene la sua stazza tradisca il contrario. Non a caso l'anno scorso ha colpito anche e soprattutto nel gioco aereo Gustavo salvando probabilmente proprio in Sardegna la panchina a Carlo Perrone. Molinari. Adesso la situazione è totalmente diversa. serve Vettraino lungo il suo assist. Però ci arriva Vettraino. Su di lui il cross al centro. Attenzione. Mengoni. In qualche modo riesce ad arpionare il cross di Vettraino. Ancora però Salernitana. D'esperienza Rinaldi. Facile per Molinari. Molinari. Poco il movimento senza palla. Costretto addirittura Vettraino a ripiegare all'altezza della mediana. Perpetuini. Montervino. Aveva provato a liberarsi della marcatura di Anzilotti. Troppo lungo però il servizio di Perpetuini. Penzalfini. Aliperta. Su di lui c'è Luciani. Si riparte da Gioia. Gioia. Aliperta. Vicari. Nel cerchio del centrocampo. Largo sulla destra per Saverio Cutrupi. La pressione di Gustavo. Che facilita l'intervento di Chiri Eletti. Può ripartire la Salernitana. Lo fa proprio con il cursore sinistro. Che lascia l'incommenza a Montervino. Dalla parte opposta a Vettraino. Si riparte da Luciani. Fa un buon movimento invece in fase difensiva all'interreggio. Sale con centrocampo e difesa. E costringe la Salernitana a ripartire. Mancini. Prova a saltare un avversario. Un altro ancora. Perpetuini di prima. Il suo sinistro a girare. Il colpo di testa di Guazzo. Facile facile per Mengoni. Mengoni fa rifiatare un po' la squadra. Infatti preferisce ripartire con il suo destro. Supera la metà campo. Il petto di Chiri Eletti. Non è dei migliori. Regala praticamente la rimessa laterale all'interreggio. Vicari. Gioia. Impagliazzo. Vicari. Vicari. Aveva affintato l'assist. Lo fa in questo momento. La verticalizzazione. Il colpo di testa di Chiri Eletti. Che in fase di interdizione. Sta facendo bene. Qualche problemino invece. Quando c'è da impostare. Mancini. La pressione di Vicari. Rinaldi ha sparecchiato. Ungaro. Impagliazzo. Ha tentato di colpire Gioia. Impagliazzo. Si stava facendo male da solo. Vicari. Ancora Impagliazzo. Aliperta. Finisce a terra. Aliperta. Calcio di punizione in favore dell'interreggio. 39 minuti di gioco. 0 a 0 tra Interreggio e Salernitana. Al granillo di Reggio Calabria. Temperatura praticamente estiva. Interreggio che vede per la prima volta in panchina Antonio Venuto. Ungaro. Il lungo rilancio. Colpo di testa di Rinaldi. Ping pong sulla tre quarti. Prova a mettere ordine. Montervino. Guazzo di prima. Intenzione per Vettraino. Che ci arriva prima di Anzilotti. Gli ha preso il tempo Vettraino. Riparte da Luciani. Sulla tre quarti. Montervino. Salta gioia. Montervino guadagna qualche metro. Il cross al centro per Guazzo. E la sbuccia. In malo modo. Avrebbe potuto lasciare a Mancini. E infatti due Mancini se la prende con a Guazzo. Evidentemente gli aveva chiamato la palla. Guazzo invece l'ha vista. Non ci ha pensato su due volte. Ha calciato. Svirgolando in malo modo. Occasionissima per la Salernitana. Chissà se fosse arrivato sul sinistro di Mancini. Col senno di poi però. Sempre facile parlare. Peccato. Vicari. Per vie centrali. Zampaglione aveva tentato di servire di prima. Penzalfini. Brava la Salernitana in fase di non possesso. A chiudere bene le maglie della difesa. Subisce fallo. Vettraino. Alla peggio però. Al Iperta che finisce a terra. Commette fallo e finisce a terra. Gli rifiuti a un calcetto. Montervino. Ma in maniera assolutamente buonaria. Dire dai. Mettiti in piedi. Stand up. Perpetuini. Molinari. Molinari. Prova a fare movimento Vettraino. Sicuramente tra in più mobili. L'ex Siena. E si riparte da Molinari. Ancora Rinaldi. Si muove bene la difesa dell'Interreggio. Difesa del centrocampo. Riescono a tappare le fale. Intanto rimane a terra. Vettraino. Non se ne accorgono probabilmente i protagonisti in campo. Si rialza Vettraino. Sebbene Claudi Cante. Chirieletti. Rinaldi. La pressione di Zampaglione. Rinaldi. Cutrupi. Di testa. Vicari. Ancora Cutrupi. Un rimpallo. Lo favorisce sulla corsia di destra. Il destro di Cutrupi. Molinari. Bravissimo. Nella circostanza. Ribadisce il disimpegno. Rinaldi. Restano a terra. Molinari. Molinari e Zampaglione. Nulla di grave per entrambe. 42 minuti di gioco. Nel corso del primo tempo. 0 a 0. Tra Interreggio e Salernitana. Gustavo. Ha preso anche qualche. Suggerimento da parte di Carlo Perrone. In questo momento in cui il gioco era fermo. Attenzione Cutrupi. Su di lui Mancini. Riesce a far passare il pallone. Però c'è Perpetuini. Tranquillo. In area di rigore. Cambia gioco. Dalla parte opposta per Vettraino. Troppo lontano però Vettraino dalla porta. Luciani. Perpetuini. Attenzione al ritorno di Zampaglione. Bravo Perpetuini. Il cerchio del centrocampo Mancini. Per via centrale. Montervino. Si gira bene su Gioia. Montervino. La verticalizzazione di Vettraino. Non lo vede. Luciani. Cambia gioco. Dalla parte opposta. Chirieletti. L'anticipo di Figliomeni. Però Chirieletti ha buon gioco. Mancini. E' l'uomo ovunque. Mancini. Gustavo. Bisognerebbe provare a sfruttare anche la rapidità di Gustavo. Montervino. Il tiro di Montervino. Alto. Abbondantemente sulla traversa. E' anche vero che qualche giocatore va a cercare un po' di cono d'ombra. Di spazio d'ombra. della tribuna del Granillo. Nella zona invece centrale. Cioè sicuramente si sente di più il caldo tipicamente estivo. Guazzo. Buono. Di prima intenzione per Gustavo. Solo davanti al portiere Gustavo. Il tiro. Il gol. Gustavo per Guazzo. Grande apertura. Quarantatreesimo. Salernitana in vantaggio. Ancora Gustavo Vagenin. Il brasiliano. Formato trasferta. Realizza il gol dell'uno a zero. Uno a zero in favore della Salernitana. Proprio in chiusura. Di primo tempo. Grande intuizione. Bisogna dire. Da parte di Matteo Guazzo. Che spalle alla porta. Di prima intenzione. Ha servito il taglio per Gustavo. Lo dicevamo. Poc'anzi. Sarebbe opportuno. Approfittare della rapidità e della velocità del brasiliano. Lo hanno fatto. Come se ci avessero ascoltato. Gustavo è stato implacabile. Davanti a Mengoni. Lo ha infilato. Sul palo. Alla sua sinistra. E si riparte con la Salernitana in vantaggio. Quando manca un minuto alla fine dei primi 45 regolamentari. Decide in questo momento. Gustavo. È un buon leitmotiv. Volendo rievocare e ricordare i fasti di 15 giorni orsono. Sempre in terra calabra. Alla mezzia. Contro la Vigor. Gustavo. L'autore del gol. L'anticipo di Vicari. Vedremo se ci sarà la reazione da parte dell'Interreggio. Figlio Meni. Bravo. Chirieletti. Ancora però Figlio Meni. Vicari. Gioia. Pensalfini. Vicari. Che centrocampo però. Almeno come nomi. Che c'ha l'Interreggio. Non dà meno assolutamente. Quello della Salernitana. Attenzione. Ha provato a fare velo. Aliperta. Bravo. Nella diagonale. Vettraino. Sta consumando energie. Chilometri e birra. Vettraino. Si può giocare. Montervino si lamentava di una gamba troppo alta. Attenzione. Zampaglione. Il controllo non è dei migliori. Vince un rimpallo. Attenzione ancora. Zampaglione. Sulla tre quarti. Zampaglione. Non trova compagni che favoriscono la progressione sulla corsia di destra. Cutrupi era troppo lontano. Si lamenta Zampaglione. Cutrupi adesso arriva. Ci sarà un minuto di recupero. Sui 45 regolamentari. Salernitana che è obbligata praticamente a chiudere questa prima frazione del gioco in vantaggio. Sarebbe importantissimo. Anche e soprattutto sul morale. Rimessa laterale già battuta con le mani. Chiri eletti. Rinaldi. Cambia gioco. Cerca Vettraeno. Tradito un po' dal sole. Non Montervino invece che mette a terra con il petto. E serve di destro il piattone per Mancini. Molinari ha cercato la verticalizzazione per Guazzo. Fatto buona guardia nella circostanza in Pagliazzo. Aliperta. Guadagna una rimessa con le mani. Effettuerà l'inconvenza Anzilotti. Luca Anzilotti classe 92 primavera del Viareggio. Non c'è tempo per la rimessa. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Il primo tempo si chiude con la Salernitana in vantaggio al 43esimo del primo tempo. Grazie a un gran bel gol di Gustavo Vagenin. Tutto pronto per il secondo tempo tra Interreggio e Salernitana. Salernitana che batte il calcio d'inizio della ripresa. Salernitana in vantaggio per una rete a zero grazie al gol realizzato da Gustavo al 43esimo del primo tempo. Salernitana in vantaggio. Interreggio che prova a recuperare subito Antonio Venuto che è subentrato in panchina proprio in settimana. Schiera e tenta il tutto per tutto inserendo l'attaccante Coris al posto di Figlio Meni. Praticamente al primo minuto del secondo tempo entra Coris che era stato in ballottaggio fino all'ultimo momento tenuto precauzionalmente in panchina per problemi di natura fisica così come l'ex di turno Ivan Franceschini. Sicuramente un Interreggio a trazione anteriore con Coris che sarà la punta centrale dell'attacco bianco-azzurro. Aliperta si è centrato sulla destra. Prova a superare in questo momento Perpetuini la pressione dell'ex Lazio. Attenzione Zampaglione può giocare largo sulla destra. Lo fa in questo momento il cross al centro. Bravo Rinaldi nella circostanza a evitare guai peggiori. Bravo anche Saverio Cutrupi che aveva disegnato una precisa traiettoria, aveva capito tutto. Il centrale difensivo della Salernitana rimessa laterale affidata già all'Interreggio. Va via Liperti, entra nella rigore, poi esce costretto a ripiegare la morsa granata. Gustavo ancora Cutrupi, Saverio Cutrupi il cross in mezzo. Il colpo di testa di Rinaldi si allunga il pallone. Attenzione perché l'Interreggio è partita a testa bassa. Penzalfini su di lui, Luciani fa buona guardia e guadagna una rimessa laterale. Ricordiamo due minuti di gioco nel corso della ripresa. Salernitana in vantaggio grazie al gran bel gol di Gustavo. Grandissima intuizione di Matteo Guazzo che si è fatto perdonare quella ingenuità, quel peccato di egoismo pochi minuti prima. Avrebbe potuto lasciare l'incompensa a Mancini ma tante. Veniamo alla partita, Salernitana che guadagna un po' pallone a centrocampo. Serie di batti e ribatti sulla mediana. Zampaglione, chiuso in una morsa granata. Rimessa laterale in favore della formazione calabrese. Padroni di casa che cercheranno, proveranno a riequilibrare le sorti dell'incontro. Vicari sbaglia l'appoggio. Gustavo prova immediatamente ad innescare Guazzo in pagliazzo. Ha fatto buona guardia. Mancini, Molinari. Con tutta calma Molinari, Vettraino. La sovrapposizione di Luciani può servizio. Vettraino preferisce andare per vie centrali. Salta un giocatore, non il secondo. Può ripartire. Zampaglione, su di lui, Montervino. Zampaglione si riparte da Pensalfini. Giocatore dai piedi buoni. Bravissimo Rinaldi. Assolutamente tra i migliori del pacchetto arretrato. Mancini. Salta un giocatore. Che classe, Mancini. Largo sulla sinistra. Chiri eletti ancora più largo. Gustavo si riparte dai piedi. Il destro di Manuel Mancini. Cerca la testa di Guazzola. Mette giù l'ex Taranto per Petuini. Sulla destra Luciani. Si accentra Luciani. Cerca Guazzo di prima intenzione. Non si intende con Vettraino. Bravo nella circostanza Matteo Guazzo. Che aveva tentato di innescare la rapidità di Vettraino. Mengoni. Lungo rilancio. Proprio per la testa di Coris. Molinari. Vettraino. Il numero di Vettraino. Salta Penzalfini. Non Anzilotti. Può ripartire l'interreggio. Ancora Anzilotti. Nel tre quarti avversaria. Zampaglione. Cambia gioco. Vicari. Acceccato dal sole. Cambia gioco anche Vicari. Colpo di testa di Coris. Però commette fallo. su Luciani. Calcio di punizione in favore della Salernitana. Cinque minuti di gioco nel corso della ripresa. Uno a zero in favore dei Granata. Con gli oltre cinquecento tifosi. Presenti al Granillo. soprattutto nel spicchio di curva nord dello stadio amico di Salerno e della Salernitana di Reggio Calabria. Tifosi della Salernitana che si sono sobbarcati oltre cinque ore di viaggio per seguire i Granata. Granata a caccia della quarta vittoria di fila. Penzalfini. Zampaglione. Subisce fallo. Zampaglione. Calcio di punizione in favore dell'Interreggio. Antonio Venuto che chiede alla sua panchina di continuare il riscaldamento. Dovrebbe entrare Damiano Cutrupi. Uno dei tre fratelli presenti in squadra. Damiano Cutrupi. Vedremo in luogo di chi. Gioco già è ripreso. Anzi Lotti. Vicari. Non preciso nel stop. Può approfittarne Mancini. Bravo nella circostanza Guazzo. Un po' largo. Defilato. Matteo Guazzo entra in area di rigore. Su di lui il cross di Guazzo. Attenzione Mancini. Ha tentato il servizio. Attenzione però perché poteva approfittarne ancora Mancini. Su un lunghissimo colpo di testa di Geppino Rinaldi. Occasione per la Salernitana in ripartenza. Qui la formazione Granata deve sfruttare. Le controfughe. Gioia. Non c'è nessuno a tamponare il giovane Scuola Interreggio. Classe 94. Giuseppe Gioia. Aliperta. Cambiato fascia Aliperta. Zampaglione. Pessimo il controllo. Favorisce Montervino. La proiezione del capitano. Salta due avversari. Serve Vettraino. Un po' il defilato sulla destra. Sbaglia però il cross. Ci abbatta un cross al centro che finisce direttamente oltre il perimetro. Buona fino a questo momento comunque la prova di Diego Vettraino. Classe 93 ex Siena. Giunto in regime di svincolo alla corte. Prima di Galderisi. Poi di Perrone. Attentato il numero Aliperta. Non si fa su Mancini. Chiri eletti. preferisce l'appoggio facile per Iannarilli. Il suo destro lungo supera la metà campo. L'anticipo di Ungaro su Guazzo. Quello di Rinaldi. Mancini. Chiri eletti. Perpetuini. Montervino di prima. Molinari. Tutto di prima la Salernetana. Zan. Vettraino. Luciani. Perpetuini. Si fanno sentire i tifosi della Salernetana. Attenzione. Una verticalizzazione ancora di Guazzo. Che di prima intenzione cerca sempre l'inserimento degli esterni. Ci aveva provato Luciani. Torna sui suoi passi. Palla riconquistata comunque dall'Interreggio. Subisce fallo. Calcio di punizione. Rischia il giallo. Che arriva puntuale. Perpetuini. Primo ammonito in casa Granata. Perpetuini. Anche lui prodotto del settore giovanile della Lazio. Montervino rimbrotta un po' con Luciani. Chiedendogli di non tentare azioni personali. Ma di giocare la palla. Intanto. Si procede al cambio. Un cambio tra fratelli. Esce Saverio Cutrupi. Ed entra Damiano Cutrupi. Tutto tra Germani. Damiano al posto di Saverio. Non cambia niente nello spartito tattico. Anche Damiano è un difensore al ottavo minuto del secondo tempo. Fuori Saverio Cutrupi. Dentro Damiano Cutrupi. Probabilmente però Damiano Cutrupi è più un difensore di posizione. Quindi non è escluso che l'Interreggio si possa schierare con il 3-4-3. O comunque con il 3-5-2. Vedremo. Ungaro. In qualche modo prova a servire a Liperta. Su di lui c'è Chiriretti. Si riparte da Vicari. Gioia. Prova il giovane dell'Interreggio a fare gioco. Rinaldi è uomo ovunque dalle parti sue. Vettraino. Perpetuini. Intanto Rinaldi è rimasto a terra. Se ne accorgono i giocatori della Salernitana. La palla è ancora in gioco. Giustamente Vicari accelera i tempi affinché la palla possa essere spedita oltre il perimetro. Altrimenti non si può procedere all'ingresso in campo dello staff medico. Già pronto il medico Italo Leo e il fisioterapista Sant'Angelo. Rinaldi è rimasto a terra. Ricordiamo che aveva avuto un problema la settimana scorsa alla schiena. E lo vediamo che si lamenta proprio per un colpo subito alla zona lombare. Auguriamoci che non si tratti nulla di grave perché fino a questo momento Rinaldi è stato in assoluto il migliore del pacchetto arretrato. Ha giocato di giustezza, di posizione, di anticipo. Ed è sicuramente, non sarebbe sicuramente una buona notizia anche se come dicevamo anche nei precedenti interventi il granillo è certamente un bel vedere. Augurandoci che questo possa essere fuoriero di ben altre categorie in cui la Salernitana merita di rientrare al più presto. Rinaldi costretto ad uscire perché nel momento in cui si interrompe il gioco il giocatore, il calciatore è costretto comunque ad uscire e ad andare a bordo campo per poi chiedere l'autorizzazione al direttore di gara per rientrare. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Si tocca la schiena a Geppino Rinaldi ma esce dal campo con le sue gambe e dovrebbe fare immediatamente rientro. Interregio che in questo momento restituisce sportivamente il pallone direttamente a Gianna Rilli che serve per Petuini. Attenzione per Petuini la pressione di Coris. Gianna Rilli riesce a sbarazzarsi del pallone. Bravo Montervino in mezzo a due. Si libera del pallone Luciani. Troppo affrettato nella circostanza. Tra l'altro c'è un fuorigioco di rientro di Matteo Guazzo. E' già rientrato Geppino Rinaldi. Ristabilita la parità numerica. Gioia Vicari. Largo sulla destra per Damiano Cutrupi. Non c'è fallo dice l'arbitro. Troppo frettolosa però la ripartenza della Salernitana. Interregio può ripartire con Penzalfini. Per vie centrali per Coris. Ha cercato la sponda. Ha capito tutto Molinari. Il rimpallo favorisce Montervino. Può servire sulla destra. Vettraino lo fa in questo momento. Vettraino. Luciani. Ristituisce un pallone sporcato dall'intervento di Zampaglione. Rimessa laterale con le mani. Luciani. Ex Lumezzane. Luciani. Va via Montervino. A gioia il cross al centro. Bravo nella circostanza. In pagliazzo. In qualche modo Zampaglione. C'è Mancini però. Bravo Mancini. Subisce anche fallo. Numero su Zampaglione. Immanuele Mancini. Qualità e quantità al servizio della squadra. Il numero 10 Granata. Ha già battuto il calcio di punizione. Largo sulla sinistra. Chirieletti. Su di lui c'è Aliperta. Rientra sui suoi passi. Chirieletti. Il destro a girare. Ungaro di testa. Vicari. Zampaglione. Di prima prova a servire a Liperta. In qualche modo Chirieletti. Si rifugia in fallo laterale. Rimessa con le mani. In favore dei padroni di casa. Andrà Damiano Cutrupi. Che all'ottavo del secondo tempo ha sostituito il fratello Saverio. Rimanendo sempre sulla corsia di destra. Damiano Cutrupi va via Mancini. Prova a fare lo stesso con Chirieletti. In qualche modo Ciri esce. Cross al centro. Ancora una volta Geppino Rinaldi. Di posizione. Cutrupi. Un altro cross al centro. Ancora Rinaldi. Il tiro di prima intenzione di Aliperta. Sul rinvio. Stavolta non perfetto di Geppino Rinaldi. Il sinistro di Aliperta. Di poco alto sulla traversa. Rimessa dal fondo. Con il destro di Gianna Rilli. Quando siamo al quattordicesimo della ripresa. Salernitana in vantaggio grazie al gol di Gustavo Vagenin. Al quarantatresimo del primo tempo. Di testa Montervino. Luciani. Perpetuini. Dalla parte opposta. No look. Però non vede nemmeno che non c'era nessuno. E infatti palla regalata all'Interreggio. Damiano Cutrupi con le mani. Aliperti. Coris. Cerca la verticalizzazione per Zampaglione. Bravissimo in diagonale. Molinari. Stavolta Vettraino si fa anticipare. Attenzione perché Zampaglione esce in disperato tentativo. Ma c'era una posizione di offside di Zampaglione. Servito di prima intenzione da Anzilotti. Non deve correre questi rischi la Salernitana. Questa era un'azione di ripartenza dei Granata. Un po' troppo. Un po' troppa sufficienza da parte della formazione Granata. Nella circostanza Vettraino ha aspettato il pallone. Telefonato. Anticipato tutti. Anzilotti che stava per fare il patatrack. Provevamo a vedere se Vettraino proveva a farsi perdonare questa ingenuità. Che fortunatamente non è costata cara alla Salernitana. Riparte l'Interreggio con gioia. Ha spazio. Troppo. Troppo campo per gioia. Ha fatto 25 metri. Non c'era nessuno a fare da interdizione. Vicari. La verticalizzazione per Aliperti. Attenzione Aliperti davanti alla Iannarilli. Che bravissimo. Con un guantone. Aveva scavalcato centrocampo e difesa. Era andato via. Aliperta. Ha trovato sulla sua strada. Il guantone destro di Anthony Iannarilli. Determinante. Occasionissima per l'Interreggio. Momento di blackout della Salernitana. Il destro d'esterno dell'Interreggio. Mancini. Chiri eletti. Bisogna uscire dalle corde. Mancini. Lo fa con Gustavo. A campo. A spazio. A velocità. Gustavo. Su di lui c'è Cutrupi. Commette fallo. Calcio di punizione. Può respirare la Salernitana. Salernitana. Sedicesimo del secondo tempo. 1-0 in favore dei Granata. Ma Salernitana che in quest'ultimo raggio d'azione ha sofferto. E tanto. Rischiando. Almeno in un paio di circostanze. Bravissimo. Nell'ultima occasione. Anthony Iannarilli. che con il guantone ha detto no ad una conclusione di Aliperta a tu per tu con il portiere. Calcio di punizione sulla tre quarti in favore della Salernitana. Intanto sembra si stia riscaldando. È pronto ad entrare. Il primo cambio per la Salernitana dovrebbe trattarsi di capua. Probabilmente Perrone vuole rinforzare il centrocampo. Tanto Montervino e Mancini chiedono il rispetto della distanza. Tocca a Mancini che batte breve per Montervino. Ancora Mancini su Vicari. Gustavo. Mancini. Vicari sempre su di lui. Lo salta Mancini. Il cross al centro. Ungaro. Non ci pensa su due volte. E la spedisce in fallo laterale. Rimessa con le mani affidata a Chiriletti. Che si prende tutto il tempo a sua disposizione. Chiriletti. Guarda lo schieramento dei compagni. Perde un po' troppo tempo. Rischia qualcosa. Chiriletti. Mancini. Mancini. Freddo e glaciale Mancini. Perpetuini. Il tiro dalla distanza abbondantemente al lato. Non teme neanche la pressione di tre giocatori. Quando è dalla cintola al su. Manuel Mancini. Giocatore dai piedi buoni. Testa alta. Capace di rendersi conto che Montervino era finito in fuorigioco. E quindi ha preferito non servirlo e andare per linee orizzontali. Che giocatore. Coris. Attenzione all'interreggio. L'inserimento del centro avanti. Sicuramente sta creando qualche grattacapo di troppo alla retroguardia Granata. Padroni di casa che beneficeranno di una rimessa laterale con le mani Anzilotti. Servito Penzalfini. Su di lui c'è Montervino. Vettraino. Il rimpallo favorisce Biancazzurri. Vicari. Per via centrale. Attenzione a Zampaglione. Il problema di girarsi riesce con il da e vai con Coris. La palla resta lì. Ancora Coris. Tenta la verticalizzazione per Zampaglione. Esce. Provvidenziale. Anche perché coperto da un gigante di 193 centimetri di altezza. Come Morris Molinari. Anthony Iannarilli. Che preferisce anche per far scorrere qualche secondo prezioso. Anche se c'è ancora tanto tempo di gioco nel corso della ripresa. Vicari. A sinistra Anzilotti. Si fanno sentire i supporti della Serenitana. Sanno che il momento è particolare. La canzone. La hit in voga del momento. Che bello è. Gioia. Aliperta. Coris. Cambia gioco. Dalla parte opposta per Cutrupi. Con la faccia. In qualche modo. Gustavo. Prova. A dare fastidio. Si vede che ha ricevuto il colpo in pieno volto. Però resta in piedi. Come un pugile. Interreggio però che continua a provare a tessere la sua trama. Penzalfini. Arretrato il raggio d'azione del numero dieci. Calabrese. Ungaro. Vicari. Per vie centrali. Aliperta. Coris. Attenzione. Zampaglione. Aliperti. Ancora miracolo di Iannarilli. E non riesce. Zampaglione. Arriba a dire in rete. In un rimpallo che poteva favorirlo. Occasionissima. La seconda. Per l'interreggio. Ancora con Aliperta. Ancora Anthony Iannarilli. Gatto ragno Iannarilli. Luciani. Perpetuini. Mancini. Perpetuini. Cambia gioco. Gustavo. Mette giù un pallone difficile. Chiri eletti. Tenta il numero su Aliperti. Mancini. Vicari. Su di lui. Non c'è fallo dice il direttore di gara. Attenzione. Zampaglione. Sulla tre quarti. Costretto al fallo. Montervino. Rischia qualcosa qui. E infatti. Si becca il cartellino giallo. Doveva commettere fallo. Fallo tattico. La differenza è che nel primo tempo. Forse erano anche equilibri diversi. Però nel primo tempo Vicari ha fatto un fallo praticamente identico. Ed è stato graziato. Montervino. Infatti. Si lamenta. E non poco il capitano. Ha fatto lo stesso. Però non è stato graziato. Come vi avevo anticipato. Prima sostituzione. Per la Salernitana. Al ventunesimo della ripresa. Fuori Vettraino. Dentro Capua. Giuseppe Capua. Cambia l'atteggiamento tattico della Salernitana. Fuori un attaccante. Fuori un esterno alto. Dentro un centrocampista di contenitamento. Facile. Che la Salernitana si schiedi con il 4-4-2. Con Guazzo e Gustavo. Tandem offensivo. Montervino. Perpetuini. Capua e Mancini. In mediana. A meno che Mancini non possa giocare sulla tre quarti. Staremo a vedere in fase di inappostazione. Per il momento la Salernitana deve difendere il minimo vantaggio. Arrischiato. In due circostanze. Il gol del pareggio sempre con Aliperta. Classe 90. Aliperta. Domenico Aliperta. Bravissimo. Iannarilli. Calcio di punizione. Coris a girare. Direttamente all'incrocio. Bola. Iannarilli a deviare. In calcio d'angolo. Bravissimo. Nella circostanza. Ancora una volta. Anthony Iannarilli. Bella anche la traiettoria di Coris. Lo avevamo detto. La presenza dell'attaccante. Si fa sentire. E come? Dalle parti di Iannarilli. Calcio d'angolo. Battuto in questo momento. Guazzo. In ripiegamento difensivo. Soffre la Salernitana in questo momento. Vicari. Serve. Cutrupi. Di prima intenzione. Attenzione. Coris. In controtempo. Meno male. Meno male. Perché stavolta. Tutto di prima. L'Interreggio. Stava rischiando. Di prendere. E di imbucare. La formazione Granata. La difesa. Della Salernitana. C'è da soffrire. 23 minuti di gioco. Nel corso della ripresa. 1 a 0. In favore della Salernitana. Ma secondo tempo. Che vede l'Interreggio. Costringere. I Granata. Soprattutto. Nella propria metà campo. Bisogna tentare. Il colpo del capo. Magari in ripartenza. Magari. Nel tentativo di respirare. Come in questa circostanza. Con Matteo Guazzo. Che si guadagna. Un preziosissimo calcio di punizione. Può respirare dalla difesa. Può salire la squadra. Può arginare. Il gioco. E l'enorme mole. Che sta consumando. In questo momento. La formazione calabrese. Perpetuini. Mancini. Rinaldi. Rinaldi. Il suo destro. La verticalizzazione. Lotta con Impagliazzo. Guazzo. Il tentativo di Gustavo. Di prima. Con il sinistro. Stavolta. Non è preciso. Buona l'intenzione. Non altrettanto. La precisione. Può ripartire l'interreggio. Con Damiano Cutrupi. Gioca a 5. In questo momento. La salernitana. Anche Montervino. Sulla linea difensiva. Attenzione. Attenzione. Perché. Coris. È velocissimo. Ha preso il tempo a Rinaldi. Ancora una volta. Bravo. A leggere l'azione. Anthony Annarilli. Che è uscito. Anticipando. Il movimento dell'attaccante. Che aveva praticamente fatto fuori Rinaldi. Luciani. Perpetuini. Ancora Luciani. Montervino. Sulla corsia di destra. Guadagna una rimessa laterale. La salernitana. 24 minuti di gioco. C'è ancora un'eternità. Entrato capo al posto di Vietraino. Ha cambiato atteggiamento tattico. Carlo Perrone. Si stanno riscaldando. Intanto. A bordo campo. Topozis. Zampa. E Cristiano Rossi. Vedremo. Se. Nel proseguo del match. Ci sarà spazio per uno di loro. Intanto. C'è una disputa sulla rimessa laterale. Il direttore di gara mette tutti d'accordo. È di colore granata. Tocca a Montervino. Nelle inedite vesti di esterno stavolta. Serve Capua. Sul filo del fondo Capua. Anzi Lotti. La butta fuori. Molinari. Rinaldi. Attenzione Rinaldi. Evita guai peggiori. E riparte da Iannarilli. Sale tutto l'interreggio. In offside Gustavo e Guazzo. La palla però arriva a Montervino. Non c'è fuori gioco. Anticipo di Ungaro. Per Guazzo. In posizione regolare stavolta. Disegna bene la diagonale. Damiano Cutrupi. Gli restituisce il pallone. Mengoni. E può ripartire l'interreggio. Salernitana che ha ceduto praticamente il pallino del gioco. Alla formazione calabrese. Penzalfini. Gioia. Per via centrale. Aliperti. Cutrupi. Dalla tre quarti un cross inutile. Penzalfini. Il rimpallo favorisce Capua. Capua scarica su Montervino. Ancora Capua. Bravo nella circostanza Capua. Può guadagnare qualche metro Capua. Si accentra. Guarda lo schieramento dei compagni. Serve a Mancini. mette palla in cassaforte. Mancini. Su di lui Vicari. Largo sulla sinistra per Chiri Eletti. Peccato. Non l'ha capita. Però c'è arrivato lo stesso. Ancora Mancini. Che giocatore. Mancini. Serve di testa. Guazzo la spizzata per Gustavo. Bravo. In questa circostanza Riccardo Mengoni. Portiere ex Catanzaro. Ha capito il servizio. E ha anticipato l'arrivo al rimorchio di Gustavo. Iannarilli. Il suo destro. Facile preda della testa di Impagliazzo. Con il petto Luciani. Montervino. Capua. Subisce fallo. Si può proseguire. Dice il direttore di gara. Ci sarà una rimessa laterale. In favore dell'Interreggio. 1-0. In favore della Serenitana. Decide Gustavo Vagenin. Al quarantatresimo del primo tempo. Serenitana che soffre nella ripresa. Serenitana che deve stringere i denti. Pensalfini. Gioia. Largo. Sulla destra. Per Cutrupi. Coris. Non ne sta sbagliando una. Coris. Attenzione. Al Iperti. Al Iperti. Anzi Zampaglione si accentra. Perpetuini. Mancini. Bravissimo Mancini. Serve Guazzo. La sponda con capo. Ancora Mancini. A qualche metro. La Serenitana si può distendere. Mancini. Può servire Guazzo. Lo fa in questo momento su di lui. Ungaro. Il servizio per Mancini. Il tiro. Al gol. 20esimo. Manuel Mancini. L'azione di ripartenza che avevamo chiamato. L'azione di controfuga. L'appoggio di Guazzo. Ancora una volta nelle vesti di Assismen. E Mancini non sbaglia. Manuel Mancini. 2 a 0 in favore della Salernitana. Quando la palla arriva a lui. Va in cassaforte. Stavolta è andata in banca. Quella centrale. Quella del 2 a 0. Si va a abbracciare con Zampa. E con tutta la panchina. Perrone Sulta. 28esimo. Salernitana in vantaggio. Per due reti a 0. Decidono Gustavo e Manuel Mancini. Proprio nel momento migliore dell'Interreggio. Questo è il calcio ragazzi. Interreggio che ha fallito due clamorose occasioni. Grazie anche e soprattutto all'ottima difesa stoica. Il baluardo di Anthony Iannarilli. La Salernitana cinica e spietata. Battuto cassa con il suo uomo migliore. Manuel Mancini. 2 a 0. E palla in cassaforte. Calcio di punizione intanto. Attenzione perché naturalmente la partita non è finita. Però sicuramente è una botta importante. Un'iniezione di fiducia per i Granata. Una botta pesantissima per l'Interreggio. Sconsolato in panchina. Antonio Venuto. Subentrato a Di Maria. In settimana. Non sa più che pesci prendere. Francamente l'Interreggio nella ripresa. Aveva meritato. Aveva preso in mano il pallino del gioco. Al Iperta però. Ha fallito. Due clamorose occasioni. Grazie anche e soprattutto a Anthony Iannarilli. Seguiamo questo calcio di punizione di Coris. Direttamente in porta. Stavolta la mira è imprecisa. E per fortuna. Se anche Coris. Che è stato l'uomo migliore. Nel momento in cui è entrato. Dal primo del secondo tempo. Alza troppo la mira. Significa che il gol di Mancini. Probabilmente. Ce lo auguriamo. Ha tagliato le gambe ai calabresi. Venuto. Tenta il tutto per tutto. Pronto ad entrare in campo. Borghetto. Vedremo al posto di chi. Numero 16. Borghetto. Rimessa laterale. In favore dell'Interreggio. Siamo alla mezz'ora del secondo tempo. Salernitano in vantaggio per due reti a zero. Ancora 15 minuti più in recupero. Per portare a casa la quarta vittoria consecutiva. Attenzione però. Anzilotti. Montervino. Si rifugia in fallo laterale. Ancora Anzilotti. Gioia. Mette a terra un buon pallone. Anzilotti. Va per vie centrali. L'Interreggio con Vicari. Si va sulla destra con Cutrupi. Aliperta. Cerca Coris. Trova la testa di Luciani. Capua. Buono il suo ingresso in campo. Ha dato il là all'azione del 2 a 0. Giuseppe Capua. Rispolverato da Perrone. Per Petuini. C'è anche quando non si vede. Guazzo. Guazzo. Subisce la pressione di Ungaro. E qui rischiano di perdere i nervi. Giocatori dell'Interreggio. Attenzione Guazzo. Può ripartire la Salernitana. Bravo. Anzilotti. A evitare guai peggiori per la formazione calabrese. Cutrupi. Cutrupi. Subire ha indisturbato la metà campo. Gustavo. Ancora Cutrupi. Vicari. Su di lui c'è Mancini. Che giocatore. Uomo ovunque. Classe innata. E anche quantità. Intanto vedete. Gioco fermo naturalmente. Però Gustavo. Ci ha provato dal cerchio del centro campo. La sostituzione. Annunciata. Entra Borghetto. Esce Vicari. Al trentaduesimo della ripresa. Esce Salvatore Vicari. Entra Borghetto. Praticamente cambia anche l'hitmotiv. Perché Vicari era in un certo senso il centro mediano metodista della formazione dell'Interreggio. La formazione calabrese. Entra Natale Borghetto. Classe 92. Un passato nella Vibonese. Centrocampista anche lui. Probabilmente venuto. Vuole dare più brio alla mediana. Attenzione. Il cross al centro. Il colpo di testa di Chiri Eletti. Mancini proprio. Il nuovo entrato Borghetto. Non ci pensa su due volte. Rinaldi. La spazza via. Può risalire la Salernitana. Può risalire la sua difesa. Può disporsi meglio alla formazione Granata. Può chiudere gli spazi. Coris. Di prima intenzione verso Aliperta. Palla che finisce. L'emme l'emme. Oltre il perimetro. Si riprenderà con una rimessa dal fondo. Due palloni in campo. Intanto Giannarilli si preoccupa di restituirne uno. Aerea Cattapalle. Con tutta calma. Va a riguadagnare la posizione per riprendere il gioco. Colpo di testa di Ungaro. Mancini. Finisce a terra ma non c'è fallo. Si fanno sentire i tifosi della Salernitana. Hanno capito che il momento più difficile probabilmente è passato. Però c'è ancora da lottare. Non bisogna mollare di un centimetro. Cutrupi. Colpo di testa di Molinari. Sulle palle alte non ce n'è. Attenzione Anzilotti. Borghetti. Ha tentato di servire Coris. Che in una spaccata aerea non è riuscito ad intercettare l'assist di Borghetti. 34 minuti di gioco. 11 al termine più il recupero. La spizzata di testa di Gustavo. Ha ragione il brasiliano. Montervino. Largo sulla destra. Capua ancora Montervino. Perpetuini di prima. Gustavo. Tutto di prima. Perpetuini ancora. Capua. In qualche modo. Ungaro. Ancora però Salernitana. Gioca sul velluto adesso la formazione Granata. Largo sulla sinistra. Chiriletti ha spazio. A tempo. Per il cross di testa però. In pagliazzo. Ancora Salernitana. Stavolta è l'interreggio alle corde. È stato spiazzato dal gol di Mancini. Il colpo di tacco di Montervino. Capua. Luciani. Perpetuini. Per vie centrali. Mancini viene messo giù da in pagliazzo. Ed è pronto ad entrare con l'inedita mascherina stavolta nera rispetto a quanto fatto vedere nelle amichevoli del giovedì dove ha preferito il colore rosso. Enrico Zampa reduce proprio da un infortunio al setto nasale nella trasferta di La Mezzia. Enrico Zampa pronto a subentrare. Vedremo al posto di chi. Potrebbe essere Manuel Mancini. Anche se significherebbe poi privarsi della autentica fonte di gioco. della manovra granata. Seguiamo questo calcio di punizione. Gustavo sulla palla. Potrebbe tentare la conclusione diretta. Lo fa in questo momento il tiro a giro di un soffio sul palo della porta difesa da Mengoni. Rimessa dal fondo. Prima però la sostituzione. Esce Perpetuini. Trentaseesimo minuto della ripresa. Entra Enrico Zampa. Quindi Enrico Zampa per la prima volta. Zampa va a prendere in mano le chiavi del centrocampo. Due settimane orsono le ha giocato proprio con Perpetuini per rinforzare il centrocampo. Era entrato al posto di Guazzo. Giocando insieme a Perpetuini. Almeno fin quando Perpetuini non era stato poi sostituito da Tuia. Stavolta l'avvicendamento è tutto di marca. Laziale. Tra due centrali che Perrone vede come fotocopie. E auguriamoci che Zampa possa dimostrare tutto il suo valore. Zampa proprio in questo momento c'è fallo però di Molinari su Coris. Calcio di punizione in favore dell'Interreggio. Sulla palla. Numero 18 Coris. Tutti i tiri franchi passano dal suo destro. Probabile che ci provi anche se la distanza è siderale. Quasi 40 metri. Però Iannarilli non si fide. Vuole comunque tre uomini in barriera. Coris cercherà il tiro a girare. Lo fa. Iannarilli in due tempi. Costretto però a rifugiarsi in calcio d'angolo. Terzo tiro dalla bandierina. Per l'Interreggio. E Coris si conferma elemento molto pericoloso. Anche e soprattutto sui calci piazzati. Buona per la Salenitana che l'attaccante non era nelle migliori condizioni. Non è stato schierato dal primo minuto da parte di Antonio Venuto. L'angolo. Il colpo di testa di Guazzo. Prezioso. L'impiego di Guazzo. Anche in fase di interdizione. Il contro cross. Attenzione il colpo di testa. Quello di Molinari. Che spareccia tutto. Mancini a campo. Su di lui. Torna Coris. Tutti e due i nuovi entrati dell'Interreggio su Mancini. Che non demorde. Arriva fin dalle parti di Mengoni. A polmoni e gambe. Che possono soltanto migliorare. Aveva ragione Carlo Perone quando diceva che anche in fase di interdizione. Il giocatore preziosissimo. Attenzione Zampaglione. Il cross al centro. Il colpo di testa di Luciani. Perfezione. Il disimpegno. Chiri eletti. Favorisce l'intervento. La corsa. Di Montervino. Il capitano ha superato già la metà campo. Riparte però da Enrico Zampa. Capua. Montervino. Luciani. Perone come se fosse in campo. Chiama praticamente i passaggi. Gustavo. Stavolta il controllo non è dei più precisi. ha ragione Gioia. A ragione Gioia. Borghetto. Tenta il tunnel ai danni di Zampa. Non gli riesce. Capua. Zampa. Largo per Ramancini. Guazzo. Si gira Guazzo. Gustavo. Gustavo. Involontariamente. Ha fatto interdizione proprio Capua. Zampaglione. Resiste. Alla pressione di Luciani. Prova a servire Coris. Bravissimo Rinaldi. Di posizione. Geppino Rinaldi. Montervino sulla corsia di destra. Una posizione che rievoca i fasti di quando Montervino era agli albori della carriera. Chirieletti. Quarantesimo. Salernitano in vantaggio per due reti a zero. Mancini. Autentico mattatore. Ancora una volta dell'incontro. Attenzione Chirieletti. Salta un avversario. Tenta la conclusione. Rimpallata dalla difesa calabrese. Palla che finisce in calcio d'angolo. Chirieletti che ci sta prendendo gusto. E appena si trova da posizione favorevole. Non ci pensa su due volte. E calcia in porta. Anche domenica scorsa ha compito la traversa. Complice una deviazione della difesa del Borgo Abbuggiano. Rinaldi. Chirieletti. La pressione di Coris. Preferisce ripartire da Iannarilli. In surplus la Salernitana. Chirieletti. Non molla però l'interreggio. Stoicamente cercano di mettere pressione ai portatori di palla granata. Arriva Zampov a prendersi il pallone. Preferisce restituire l'incommenza. Molinari cerca la verticalizzazione per Montervino. In posizione regolare. Montervino entra in area di rigore. Può servire Guazzolo. Lo fa in questo momento. E con le mani ci arriva. Con le punta delle dita ci arriva Mengoni. Altrimenti per Guazzo sarebbe stato un gioco da ragazzi. Mettere dentro con il piattone il gol della tranquillità. Il gol del 3 a 0. Il gol dei tre punti. Pensa al fini. Cutrupi. Sulla tre quarti. Cutrupi preferisce servire a Liperta. Ancora Cutrupi. Di prima il cross al centro. Zampaglione. Questi cross però li hanno vietati anche alla scuola calcio. Ne sanno qualcosa gli esterni della Salernitana. Che fortunatamente con la cura Perrone ne fanno vedere molti di meno. Molinari. Rinaldi. Zampa. Ancora Rinaldi. Adesso prova a fare scorrere il tempo la Salernitana. E quando c'è da far passare il tempo la palla passa per i piedi. Preziosi. Geniali. Di Manuel Mancini. Luciani. Mancini. Attenzione qui. Troppa disinvoltura. Molinari è costretto a sbarazzare. Praticamente. Regala. Il possesso palla all'Interreggio. Anzilotti. Interessante questo ragazzo. Luca Anzilotti. Classe 92. Primavera della regina. Scusate. Primavera del Viareggio. Rinaldi. Zampa Mancini. Corto per Molinari. Capua per vie centrali. Guazzo ancora Capua. Fraseggia bene la Salernitana. Capua può servire largo. Sulla destra. Montervino lo fa in questo momento. Il capitano ha tutto il tempo per guardare lo schieramento dei compagni. Cerca l'uno contro uno. Trova un favolevole ripallo. Il tiro di Guazzo. Il muro di Impagliazzo che resta a terra. Allungato il più possibile. Le leve. E infatti rimane a terra. Non se ne accorgono i giocatori. Né quelli della Salernitana. Né quelli dell'Interreggio. In questo momento mette tutti d'accordo l'arbitro. Impagliazzo si è immolato per evitare il gol del definitivo K.O. Ci auguriamo che non si tratti di nulla di male. Però a giudicare dal gesto atletico sembrava davvero l'uomo gomma. Per evitare il tap in vincente di Matteo Guazzo. È pronto Topozis che va a rilevare proprio Matteo Guazzo al quarantatresimo della ripresa. Buona la prova dell'ex Taranto. Vicinissimo al gol. Ma soprattutto oggi in versione Assismen. Servizio assistenza clienti. Per Gustavo e Mancini. Matteo Guazzo. Quarantatresimo della ripresa. Rileva. Viene rilevato da Topozis. Si prende tutto il tempo a sua disposizione. Va a salutare addirittura l'arbitro. E fa scorrere addirittura il tempo. Invece che quarantatresimo esce praticamente al quarantaquattresimo. Ha praticamente recuperato un altro giro di lancette. Facile intuire che ci saranno almeno cinque minuti di recupero. Poi staremo a vedere cosa stabilirà il direttore di gara. Bellotti di Verona. Interregio restituisce sportivamente la sfera. Si riparte da Rinaldi. Rinaldi. Zampa. Ancora Rinaldi. Enrico Zampa. Rinaldi. Non è il suo mestiere quello del Assismen. Attenzione però. Topozis. Topozis. Prefisce lasciare a Gustavo. Gustavo in mezzo a tre. Largo sulla sinistra. Chi rieletti. Chiedono il fuorigioco. Non c'è posizione di offside. Attenzione. Gustavo. Il tiro. E il numero di Mengoni. Il sinistro di Gustavo. Mengoni. Ha evitato un passivo peggiore. Sesto tiro dalla bandierina per la Salernitana. Al novantesimo praticamente. Aspettiamo soltanto di vedere il tabellone luminoso per capire l'entità del recupero decretato dal direttore di gara. Già pregusta la vittoria. Il quarto successo di fila. Carlo Perrone. Carlo Perrone. Attenzione. Calcio d'angolo. Battuto. Mancini. Gustavo. Cambia gioco per Topozis. Per un attimo in area di rigore. Costretto a uscirvi. Zampa. Topozis. Il greco. Mancini. Ancora Zampa. Saranno tre minuti di recupero. Francamente. Potevano essere sicuramente qualcosa di più. Sei sostituzioni. Meglio così. Un minuto nel primo tempo. Tre minuti nella ripresa. 180 secondi di tempo per mettere in archivio questa partita. Per portare a casa altri tre punti. La quarta vittoria di fila della Salernitana. Quinto risultato utile consecutivo. Con Carlo Perrone in panchina. Sesto della Salernitana. Luciani. Zampa. Salta un avversario Zampa. Guadagna qualche metro Zampa. Prova a servire. Lo fa in questo momento Montervino. Largo sulla destra. Ha cercato l'assist per Gustavo. Pensalfini. Ha dato tanto Pensalfini nel primo tempo. Un po' in ombra nella ripresa. Topozis. Non c'è posizione di offside. Montervino. Sulla corsia di destra. Il cross al centro. Il tiro di Zampa. Alto sulla traversa. Si riprenderà con una rimessa dal fondo. Da parte di Mengoni. Che praticamente serve Montervino. Lezioso qui il capitano. Ha rischiato qualcosa di troppo. Stava per favorire. Zampaglione. Bravo Luciani. Prima, durante e dopo. Zampa. Capo a Montervino. Luciani. Zampa. La pressione dell'interreggio. Molinari. Luciani. Tutto di prima. Bravi nella circolazione della sfera. Mancini. Zampa. Ancora Mancini. Guadagna qualche metro. Palla al piede. Mancini. Largo sulla sinistra per Chiri Eletti. Ancora Mancini. Il numero dieci della Salernitana. Migliore in campo. In assoluto. Oltre a destra. Autore del primo gol. Con la maglia della Salernitana. Manuel Mancini. Montervino. Fraseggia con Capua. Stanno facendo soltanto trascorrere. Secondi preziosi. Pochi secondi al triplice fischio finale con Montervino che entra in aria. Ancora in pagliazzo. Ancora Salernitana però. Pensalfini. Libera via l'interreggio. La Salernitana chiude in attacco. Luciani. Molinari. Iannarilli. E finisce qui. Probabilmente con Iannarilli. Sicuramente tra i migliori in campo. La Salernitana batte l'interreggio. Due reti a zero. Un gol per tempo. Gustavo al quarantatresimo del primo tempo. Manuel Mancini al ventottesimo della ripresa. Quattro vittorie di fila per la Salernitana. Poker servito per Carlo Perrone. Pokerissimo se si considera anche il pareggio a Mugnano contro l'Arzanese. Il risultato finale dal granillo di Reggio Calabria. Interreggio zero. Salernitana due. Decidono Gustavo e Mancini. Salernitana due. 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 Grazie a tutti.